ciao a tutti e benvenuti nella cucina di macchia 1 vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccate sulla campanella prima della sempre aggiornati sulle mie ricette anche oggi parliamo di cucina parliamo di dolci e oggi prepariamo un dolce anzi una torta alle pesche quindi andiamo subito a conoscervi gli ingredienti per questa ricerca uova lievito farina zucchero olio di semi limone latte pesche sciroppate allora adesso prendiamo le nostre uova però prima andate subito a pre riscaldare il forno a modalità statica a 180 gradi allora uova andiamo due uova intere e il loro zucca mescoliamo allora il risultato deve essere soffice e sfumoso perfetto adesso andremo ad inserire l'olio la scorza di limone e il latte e poi il latte come vi ho detto mescoliamo adesso prendiamo la farina e il lievito inseriamo il lievito nella farina e mandiamo a setacciare insieme vi fermate di tanto e mescolate così non si formeranno grumi adesso prendiamo le pesche io scelgo le pesche sciroppate perché sono molto buone però adesso siamo una bella stagione potete usare le pesche fresche potete usare potete scegliere la frutta che vi piace di più allora andiamo ad inserirle non tutte ma metà perché l'altra metà le andremo a guarnire la torta prima di mettere in forno allora credetemi sarà un successo che questa torta l'abbiamo portata dai nostri amici è sparita immediatamente quindi farete un successo allora adesso prendiamo una teglia dal forno e naturalmente ricopritela con la carta firma e adesso andiamo ad inserire il nostro composto adesso andiamo a metterci le altre pesche sopra adesso prendete anche dell'altro zucchero e andiamo a ricoprire leggermente la nostra torta e adesso andiamo a metterlo in forno in modalità statica a 180 gradi per 30-40 minuti e noi ci ritroviamo tra poco qui nella cucina di macchino e noi a dopo bam ecco qui il risultato l'ho lasciata anche a riposare così si è raffrontato adesso andiamo a tagliarla e impiettare ok ok tagliarla a cubetti anche abbastanza grossetti così 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 saranno più più buone la risata e andiamo a metterla in un piatto da portata ed ecco l'ultimo pezzo voilà se vi è piaciuto questa ricetta mettete un like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per venire sempre aggiornati sulle mie ricette io vi do appuntamento alla prossima volta qui nella cucina di macchiamenù e mi raccomando vi aspetto numerosissimi e adesso vado a assaggiare assaggio come questa alla prossima ciao ciao